No, no, mi interessa perché noi giochiamo a calcio. A differenza di tante squadre di questa categoria che tirano la palla su e non è il Teramo, se no Tietino si offende perché il Teramo è una grande squadra. Si è offeso il mister che è mio padre calcistico perché mi ha fatto iniziare a giocare a calcio. Si è offeso perché ho detto che il Teramo tirava la palla su Magnachi, ma non ho detto una cosa brutta. Ho detto che il Teramo è una squadra che può vincere il campionato perché ci ha giocatori forti. Noi siamo venuti qua con i ragazzini, avete visto tutti la partita, non so se l'avrò visto male io, abbiamo fatto una grande gara, non meritavamo assolutamente di perdere, ci siamo fatti con da soli. Una squadra che va fuori casa col minutaggio in campo e prende quello in contropiede, questo dice un po' tutto, però devo fare complimenti alla mia squadra perché ha giocato a calcio, anche nelle difficoltà e questo penso che sia un bel traguardo per una squadra giovane che si deve salvare e che va a giocare su tutti i campi sempre a calcio. Vi siete ritrovati quindi in amicizia con Tietino? No, mister, lo voglio dire perché si è offeso prima della partita dove ho detto che il Teramo non giocava a calcio. Io sinceramente non mi ricordo, io ho detto che il Teramo deve vincere il campionato, se dico che deve vincere il campionato è impossibile che dico che non può giocare a calcio perché una squadra che deve vincere sicuramente qualche qualità la avrà a 20 giocatori che sono abituati a vincere e non penso di aver detto una cosa brutta. Io ho fatto i complimenti, poi ci siamo chiariti alla fine, ma Tietino per me è un padre calcistico, un grande rispetto della grande persona, del grande uomo che è, oltre ad essere un grande allenatore. Tra l'altro abbiamo notato l'abbraccio che c'è stato in campo prima delle gare. Sì, sì, no, no, ma con il mister. Ma direi questo, secondo lei la differenza, l'ha fatta la qualità delle due squadre che con tutto il rispetto dovuto è diversa? Ma la qualità, secondo me non l'ha fatta la qualità, l'ha fatta un po' di sfortuna, ci siamo fatti gol da soli. Il primo gol, Mungo è scivolato, ha messo la palla piano piano in porta, il quarto è scivolato Crispino. Purtroppo noi non siamo neanche abituati al sintetico, però cosa devo dire alla mia squadra? Ho avuto 7-8 palle gol, ho fatto 3 gol fuori casa, ho giocato col minutaggio, è la quinta partita di fila che facciamo un minutaggio, quindi io devo fare solo i complimenti ai miei giocatori perché hanno interpretato bene la gara. Purtroppo dispiace perdere così perché purtroppo gli episodi ci hanno detto male. Mister, scusi, Nuttia. Penso che sia lei che Tedino oggi possiate essere più contenti per i vostri rispettivi attacchi che per le rispettive difese perché anche sui vostri gol la difesa del Teramo ha avuto belle responsabilità. Quando una partita finisce 4-3 sicuramente delle responsabilità di reparto difensivo ci possono essere ma penso che alla fine quando uno fa l'allenatore non deve guardare solo il reparto, deve guardare tutta la squadra perché comunque noi i due gol li abbiamo presi in contropiede, avevamo palla noi, la prima con Papa Russo, la seconda con Clemente, abbiamo sbagliato e purtroppo sono errori individuali. Sicuramente ci metteremo a lavorare già da martedì per cercare di evitare questi errori perché comunque fare tre gol fuori casa e non portare niente a casa non è bello.